mi fa tanto piacere allora per spiegare rapidissimamente ai nostri amici e seguaci cosa faremo oggi il format è stato ribattezzato Amarcord o Amarcord poi a seconda diciamo della pronuncia in realtà sarebbe Emiliano e abbiamo diciamo fatto due puntate beta io e Gianluca quindi utilizzando delle nostre vecchie foto narrando grazie a questi reperti archeologici delle vicende delle cose che magari ci hanno anche segnato dei bei momenti della nostra vita insomma abbiamo cercato di creare un po' un tradunione tra tutte queste collezioni fotografiche oggi Mike ha fatto lo stesso quindi ci ha mandato delle foto completamente inedite e ci racconterà un po' la sua storia attraverso queste foto mi farò stuzzicare diciamo da quello che vedo bene è certo che rapporto hai tu con la nostalgia allora diciamo che a livello per quanto la cosa mi tocchi poco a livello astrologico direbbero che sono decisamente un cancro quindi ok tanto legato alla nostalgia sono una persona molto nostalgica in nome del fatto che mi circondo infatti per questo il mio trasloco starò incubo per star davvero sereno io devo riempirmi di cose intorno completamente soffocare la mia grotta di ricordi e oggetti il che rende il carattere molto nostalgico e il gestire la cosa molto difficile in età adulta quindi lo sono tanto no ma volevo chiederti in realtà ma questa nostalgia nasce soprattutto dal fatto che c'è la presa di consapevolezza che qualcosa sta cambiando che anche se la tua vita sul nel mondo che ti sei creato è migliorata no sicuramente però sono aumentate le responsabilità e quindi ti manca un po' quella parte di quando eri più piccolo oppure è dettata proprio dal fatto che c'è quel bisogno nostalgico di sentire casa allora in realtà è molto di più la seconda ma non necessariamente la vecchia casa intendo proprio il concetto di casa come immagine mentale animica proprio spirituale sentirsi in un nido nel proprio perché in realtà sono sempre stato d'accordo cioè è difficile negare che salvo esperienze veramente solo traumatiche per quanto non manchino mai ci sia effettivamente un meccanismo nel quale il passato anche scolastico ti viene in mancanza perché c'erano meno pensieri e meno responsabilità ciò nonostante onestamente è molto più soddisfacente nonostante tutti i vari problemi il fatto di avere il controllo della propria vita avere l'autonomia di poterla gestire ed essere l'unico che va effettivamente a decidere per sé esclusi tutti quegli echi e un dedurto che la vita ti obbliga ad avere come appunto doveri comunque sai michele che questa tua risposta in realtà è stata identica alla nostra di poche live fa sì 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 abbiamo fatto uno stesso discorso io e simone eccolo ok timing perfetto e quindi assurdo cioè abbiamo dato la tua stessa risposta è meglio quella bolla in cui non si hanno responsabilità e si vive completamente in balia dei genitori anche protetti però o la responsabilità ovviamente della vita adulta identica è assurdo allora io direi di partire con la prima foto che ho qui davanti a me grazie intanto per i sub ragazzi eccoci qui ok questa inedita in effetti esatto in realtà io ho scelto delle foto non tanto per raccontare la mia storia perché al di là del fatto che è una cosa bene o male già fatta in altri miei contenuti quindi sarebbe ridondante non interessante non intrigante da seguire è più fascinoso andare a pescare aneddoti e chicche non tanto di non solo di eventi ma dell'epoca ormai si può parlare di epoca siamo arrivati a quel punto l'epoca sì vabbè dai sì volendosi dai vabbè trattandosi della mia vita legata molto al digitale la tecnologia essendo strumento dell'uomo che avanza così velocemente si può parlare di epoca dai anche perché appunto questa foto l'ho scelta non per la location non per me stesso ma perciò che tengo in mano che sarebbe un game boy fin lì ci si arriva facilmente basta essere minimamente avvezzi al gaming ma per l'accrocco che ci sta sopra è tipo una copertura e io intanto in questi momenti cerco di no io sto cercando di guardare se per caso in chat qualcuno già stusica un po la propria fantasia no no oddio forse lo so no una sorta di piccola stampante no ma ricordate però tipo gli scontri ma certo la fotocamera la stampante la si ricorda ma appunto qualcuno in chat è riuscito a pescare perché esatta sì ci sono arrivati ci sono arrivati perché non tanti magari avranno vissuto quella sofferenza dipende dall'età media del pubblico ma il game boy prima delle versioni advanced sp non aveva retroilluminazione è vero quindi quella è una torcia quella è una torcia per illuminare lo schermo che altrimenti è completamente invisibile è arrivata veramente molto tardi la luminosità la retroilluminazione nei game boy nelle console portatili però sembrava fiero comunque fierissimo di averlo ah beh certo ovviamente cioè nel momento nel quale arriva l'ottica devo cercare per lo meno di compormi in quanto essere umano però io posso farti una domanda su questa cosa del web nel senso che immagino che tu ti sia molto rifugiato anche nel mondo videoludico in generale per perché il tuo mondo perché dove ti sentivi bene no vivo e oppure era semplicemente una passione caloppante oppure ok perché volevo chiederti se ti sei mai sentito solo nel senso ecco è un mondo così particolare che tante volte si rischia di rimanere soli no e quindi allora è una bella domanda ed è vero c'è questa immagine che a livello creativo suggerisce molto no il fatto che all'epoca perlomeno talvolta anche in questo tempo che però cambia molto le cose in base all'internet alla community alla condivisione in tempo reale così via che stravolge completamente il concetto c'è molto questa immagine del nerd degli anni 90 anni 2000 o leggermente prima persino che si rifugia nel mondo digitale si aliena perché lì trova una sorta di habitat più consono a sia la propria sensibilità il fatto è che non mi sono mai trovato così nonostante io fossi molto introverso all'epoca ma anche adesso in realtà molto solo tra virgolette non mi sono mai rifugiato ne avevo bisogno come ne avevo bisogno quando lavoravo in televisione o in post produzione cioè se io tornavo a casa dopo essermi svegliato alle 6 ed è stato tornato alle 22 e non giocavo due ore il giorno dopo io ero veramente giù avevo bisogno di sfogare avere quella valvola di universo che mi appassiona ciò non di meno non mi sono mai rifugiato e forse anche grazie al fatto che ho avuto la fortuna non alle elementari non alle medie al liceo di trovare altri videogiocatori e quindi ci sfogavamo insieme giocavamo insieme a parlarne e ad avere un approfondimento reciproco di quello che erano le nostre passioni anche parlandone al telefono ma non sono per quanto sempre poco socievole nei gruppi nelle nei branchi non mi sono mai sentito rifugiato in era genuinamente passione ok e a proposito di videogiochi di console qual è il tuo primo ricordo della console cioè la prima che ti è stata regalata allora complicata come accadde perché ti ricordi allora felicità estrema la felicità è esattamente quella che si può immaginare quando si vedono alcuni video degli anni 90 di bambini che scartano regali di natale la felicità di quei momenti è rimasta impressa a livello positivamente traumatico talmente estrema da deve aver difficoltà magari a viverla da tutto era completamente citando il termine di prima soberchiante ti soffoca tanto è bella e infatti è una fortuna incredibile per la vissuta il fatto è che il mio primo approccio con qualunque cosa si possa definire digitale è stato il computer non una console però le console sono arrivate molto presto perché comunque io ho avuto a che fare con schermi dai tre anni in su poi dai quattro e mezzo ho cominciato effettivamente a giochicchiare e si è partiti guardando il computer gigante per poi ottenere il game boy l'originale chiaramente super nintendo quindi ho saltato il nintendo ho fatto un po di zig zag con il garage di papà dove c'era letteralmente pong e il commodore e tipo steve jobs proprio nel garage agli esordi questa cosa mi ricordo ce l'avevi raccontato nella vecchia live in caverna che tuo papà lavorava con il computer e quindi l'approccio è stato diciamo subito eclettico esatto e poi dalino ci si è fermati neanche un momento no 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 No, no, no.